Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi, attivare la campanellina e mettere il piace Se siete del canale di La Fai di Casa Grande E' una collaborazione come la stella Uffi Cioè con la U perché sono ignorante Oggi proveremo a fare un video di Roblo Di Fortnite E comunque vi ricordo che sono noob Faccio schifo e il computer non è mio Quindi non chiedetemi tanti Non chiedetemene altri Cioè tanti altri Raffi sei pronto? Adesso sono pronto e possiamo andare in forzita Facciamo accoppio E' una straterrestre E' una straterrestre Ok Ok Basta Basta Ok Ok siamo entrati Ho abbassato la sedia Ho abbassato la sedia Ho abbassato la sedia Aiuto La rialzo eh Ok hai fatto Stiamo per iniziare Dove è? Che ho fatto? Raffi Ho risolto tutto Dove ci buttiamo? Nel vulcano? Ma che è il cazzo Io? Cazzo? Ma che è il cazzo Io? Oh me Eh Ma permette qua Andiamo nel bosco Nel bosco Che non credo ci sia tanta gente Quale è il bosco? Quello dei riuscianti E No ho sbagliato Ok Ok Ti scopo La stagione Uè C'ho bella Io ti penso Mi è entrata in testa A sto pezzo Della canzone Che hai detto? Sì Me ne sono ancora Anch'io Ok Secondo Mi ammazzo Oh Oh Uè Bello No Eh Me so Non c'è Ma mamma Dai Il video Non è Non è durato Nemmeno tre minuti Lo rifacciamo Da capo No Non è il video Ragazzi appare il video Eh Va bene ragazzi Se qua c'è il video Perché siamo stati scarsissimi Uno da me è dietro Ma adesso Stavo prendo una cesta Con l'arco Io ho provato A difendermi con Cosa? Io mi stavo Per lanciare una bombomba Però No Perfetto Io La film Metti pronta Sennò Sto video Durano un anno Sì Siamo nubi Mi dispiace Dovrete vedere Due nabini Che giocano a fortnite Questo video Durano un sacco Comunque scusate Per la visuale Ma se Non la mettevo così Largava Vabbè Hai capito Cioè È un bag Della visuale È un bag Della visuale La stessa cosa Ciao Che è la Va bene Facciamo finta di Ok Oh sto entrando Marcello 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 Gigi Gino Marcello Ti salto in faccia Non posso Sei scivoloso Lafì Sei scivoloso Wow Se ci mettessimo Un attimo Dove ci passa Dove ci passa Me la domanda Io mi lancio Quando lo fai te Tre Due Uno Lanciamoci Non ti vedo Ti sto seguendo Ti sto seguendo Sei te quello che sto seguendo Non ti vedo Ma devo fare una cosa Ma devo fare una cosa Cioè voglio fare una cosa Lafì Passiamo qua in mezzo Lafì Vieni Dove Passiamo qua Passiamo qua Passiamo qua Che bello Andiamo Andiamo qua Il monte Ok Ok Prendi tutto Guarda che Prima prova a salire Sì Raffì Raffì Mi passi le cose Vabbè Mi aiuto niente Qua non posso più andare da nessuna parte Si può andare da nessuna parte Si può andare da nessuna parte Perché Morire Bravo L'occhio del notte Che ho fatto Mi sa che devo Ah ok Ciao Che hai dei materiali Hai dei materiali per salire Ah grazie Dove prendo un secchio della spazzatura Aspetta Perché hai detto un secchio Anche se ho avuto un sacco della spazzatura Raffì Io sto cercando qualcosa Sto cercando infatti Oh qua si sta bene Ma ci sono gli alberi Con le Vabbè Con le Con le foglie strane Cioè Sono Una via di mezzo Tra il bianco e il verde Vabbè Oh ma perché Ho visto qualcosa Mi sa Un Che figata Tipo Un Cosa No Raffì vengo Dove sei Ma non venirete Allora vieni Oh Non mi riesco a fermare Per la domanda Eh Si Si No Non so Piace qualcosa Ah Vabbè Io preferisco No Il bene è che io ancora sono senza Pistole Non c'è niente Va bene Ah mi sono schiantata male Ma dai ma quella Non mi rubare lo snow Come si scende Non è Ma ti ho scritto Si Oh eh Non No No Sta andando Ma fa schifo Cosa Sta pistola Vabbè Allora Sarà meglio E quante cose hai Wow Si si Ok Dove andiamo Io ho una pistola Una pistola E uno snowboard Vabbè Io preferisco Colesto Uè Oh Mi stanno ammazzare Come No Mi hanno quasi ucciso Mi hanno quasi ucciso Ho visto Vieni a salvarmi Sto Provando Ci sto provando Ci sto provando Ci sto provando Corri Lo sto facendo Corri Corri Sali Corri Scasta Vieni a scappare Non è scappare Non è scappare Non è scappare Perciò Escappare Non è scappare Non è scappare Ma ci stanno ancora dietro Dove sei? Dove sei? Mi stanno ammazzando, sono morta, sono morta, Raffi, aiutami, sono a terra, sono a terra, Raffi, aiutami, prendi, aiuto, sto volando, non ridere di me e le mie morte. Raga se muoio qua sono finita, se muoio qua sono, no mi stanno sparando, mi stanno, no sono morta, sono morta, no di nuovo. Eh? Davvero? Fallo, fallo, fallo. Raga io stavo, sono scappata come una pazza, non è possibile. Oh sto qua... Ti uccide lei nel sonno. Scappa, 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 scappa. Siamo quindicesimi. Non rompere il joystick. Eh, siamo morti. E possiamo concludere qui? Ma dai! Sono delle brutte persone. Chi? Quelle che ci hanno ucciso. Cioè, c'ero io che stavo strusciando, sono riuscita a scappare, ci stavo salendo di sopra quando io che strusciavo. Casino. Vabbè, lo vedrai quando riguarderemo il video. Ok. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Mettete like, iscrivetevi al canale e alla prossima Raffi devi fare il tuo saluto. Ciao!